Jonas Blue Il nuovo singolo, Polaroid.un brano pop barra orang b dal groove irresistibile, prodotto da Jonas Blue e scritto da Jonas, JP Cooper, Sam Romance e Drewet. Un singolo che sembra destinato a continuare il successo del precedente Riese, che è stato una delle hit dell'anno con oltre 500 milioni di streaming a livello globale. Jonas Blue Carriera, Musica, Canzoni A chi è Jonas Blue? Guy James Robin, questo è il suo vero nome, nasce a Londra il 2 agosto 1989 ed è un produttore discografico britannico di MusicaDance.ha raggiunto la notorietà internazionale nei primi mesi del 2016 con il singolo Fast Car, cover in chiave Tropical House dell'omonimo successo di Tracy Chapman.ha fatto il suo esordio nel mondo delle musica nel dicembre 2015, pubblicando con l'etichetta discografica Virgin Music il suo singolo desordio. Fast Car, cover dell'omonima canzone incisa e portata al successo da Tracy Chapman, 1988, punto il singolo, nei primi mesi del 2016, ha scalato le classifiche internazionali, raggiungendo la prima posizione in Australia e Scozia, il secondo posto in Regno Unito, Germania, Nuova Zelanda e Svezia e risultati lusingieri in tutti i paesi in cui è stato pubblicato. Singolo inciso in collaborazione con la cantante britannica Dakota, punto nel giugno 2016 è stato pubblicato il suo secondo singolo, Perfect Strangers, in collaborazione con JP Cooper, punto poi in ordine By Your Side, Fit Ray, Mama, Fit William Sing, Don't Call It Love, Fit Eddx, We Could Go Back, Fit Moe Logo e Riese, Fit Jack and Jack. Ora Polaroid, interpretato insieme a Liam Payne e Lennon Astella, star della serie televisiva Nashville. Jonas Blu, Instagram Onas Blu è, ovviamente, presente sui social network. In partita.